Ciao Gemelli, benvenuti sul mio YouTube canale dei Talents, Altarobac e Città. Ho benvenuto su questa lettura per metà marzo 2024. Ti chiedo Gemelli, non far forzare questa lettura. Se non ti corrisponde, questa è una lettura generale. Se vuoi una lettura privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio Infobox. Adesso vediamo che succede. Se hai un ascendente, un sole, una luna, qualunque viene adesso questo segno, può essere questa lettura può far per te. Iniziamo. Ma Love Team, datemi per i miei gemelli, la dodicesima casa, spiritualità e arte, ok, e il sole. Può essere che stai facendo in questo momento hai i sogni strani o ti porta avere i sogni strani o tra i sogni c'è un nuovo percorso che vorresti fare o qualcosa da mettere in corso. Trasformazione e disruption. Shadow sotto il mazzo. Shadow è l'ombra, no? Lombroso. Cosa è qualcosa? Io ho la sensazione tra i tuoi sogni, quello che sogni, no? Come che si sta mettendo in evidenza qualcosa? Tu ti stai trasformando qualcosa? Anche se non capivi o non puoi capire come la puoi trasformare? E ti mette uno stato di, non angoscia, tipo disruption è come quando tu dici di dove inizio? Come la faccio? Come la dovrei capire? Ecco, interpretazione. Con la potente interpretare? Iniziamo. Dammi per favore il presente, re di coppe, 5 di spade, 9 di bastoni, diamanti, 8 di spade, per quello che ti ostacola, la regina di denari per quello che non vedi, il carro per cosa si può aspettare, l'imperatrice, wow. 10 denari sotto il max, non so se sei tu. Può essere, perché c'è un risparmio se sei tu. E come che vuoi aggiustare qualcosa, gemelli? Come che vuoi rimettere a posto qualcosa? The lovers, gli amanti sei anche tu, no? E come che vuoi forzare? Perché il disruption è anche forzare, no? Liberarsi. E come che ti vuoi liberare di qualcosa? O qualcuno si vuole liberare con te, no? O si vuole, non esprimere, è come che si vuole liberare di una cosa che non fa più bene. non so se sei tu o l'altra energia, può essere, può essere. Tipo in modo, sai quando, io ti faccio un esempio, gemelli, quando ci si dice per esempio tante bugie, veniamo in una circostanza di vita che non ce ne possiamo più togliere. Sai quando poi le bugie cominciano a essere più grandi, più grandi, e poi fai difficoltà un po' a uscirtene, no? Non so, gemelli, se è una persona verso di te o tu verso una persona, ma se ne vuole liberare, c'è una liberazione qua. Tipo, no, mi voglio rimettere in sesto, mi voglio, voglio ricredere, voglio diventare più bravo, no? Voglio essere più giudiziosa o giudizioso. Dammi l'imperatrice per il generale. Wow. Risveglio, l'imperatrice di nuovo e il cavaliere di bastoni e il nove di coppe sotto in mazzo. Qualcuno qua, non so se sei tu, si vuole come come avere un un perdono. Oh, questa energia, e io credo che sei tu, gemelli, questa energia sa che l'altra situazione persona è un po' un farfallina, una farfallina e un farfallone. È come che però tu lo stesso l'accetti. E se non so se sei di amore, non lo so, non lo so, tu mi dici, io so che quella persona è un po' un po' pazzarella, no? Però è come che l'accetti lo stesso per quello che è. Dici, vabbè, basta che basta che siamo felici, basta che siamo basta che siamo in pace. Come che accetti? Perché tu mi dici non possono essere tutti santi, però accettiamo. Dammi il re di coppe, è difficile ancora, lo scoprirò. Sei di spade, the herfant, e il dieci di coppe. Dammi cinque di spade per il focus, il sole, due di bastone e quattro di denari. Tu mi dici, ma io la amo o lo amo o amo questa situazione o persone it doesn't matter what. Non c'entra niente, io la amo per quella che è. Non credo che si parla di amore, nel senso amore romantico, no? La morte sotto il mazzo. Perché tu mi dici mi hanno fatto di cotte e di crude, me l'hanno fatto, ma questa energia me l'ha fatta veramente tanti, però non posso cambiarla. Non posso cambiarla. Devo accettarla? Devo. Se come tu dici, sono quasi costretta ad accettarla così. perché tu dici io ho fatto tutto, ho provato di tutto per pacificare in certo modo questa situazione o persona o per portarla nella direzione giusta, ma non ci sono riuscita. Allora mi tocca accettare, no? Per quello che è. Dammi le amanti. le di coppe lo prendo qua, le di coppe l'appeso e la regina di denari la prendo qua, il tre di denari sotto il mazzo. Tu mi dici non sono stata sopportata di una situazione che è stata troppo tranquilla, era troppo e mi è troppo comoda. Come dici, in questa circostanza di vita mi ritrovo sola. Non ho avuto quel supporto di portare questa situazione nella direzione giusta. Ho dovuto fare tutto sola. Non so se si parla di figli. Può essere che si parla anche di figli, no? O tu sei un figlio. Non so per te perché io mi ritrovo qua come che sei una mamma? O una nonna? Una zia? No, una zia no. No. Può essere anche che sei un boss, un lavoro, di una ditta o tu sei per conto tuo e tu dici e tu dici non è proprio quel collaboratore come perfetto come lo vorrei però mi porta risultati. Quello può anche essere. Proviamo a essere un po' open mind, perché sono energie che leggo. Tu dici, io sono stata sola o mi ritrovo solo o sola qualcuno non mi ha supportato come dovevo per portare questa persona situazione no, come ho detto prima nella direzione giusta. Otto di spade per l'ostacolo la regina di coppe sette bastoni il ragazzo di spade l'otto di spade di nuovo sotto in mazzo è perché ti è cara ti è importante questa energia e tu mi dici io provo sempre a spiegare io provo a comunicare io provo a farla ragionare no, a farla ragionare ma è difficile è difficile non sai più dove e come tu mi dici mi sto rampicando nei specchi no, sui specchi se si dice così neanche più l'amore che provo per questa situazione ma mi mi può aiutare la regina di denari per quello che non vedi dieci di bastoni dieci di bastoni sei di coppe la forza e la regina di spade sotto in mazzo non ti ne puoi fare una colpa gemelli se sei tu puoi essere una colpuna verso di te puoi essere tu sei quello che dai all'occhio a qualcuno tipo crei le preoccupazioni a qualcuno 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 qua si preoccupa tantissimo se sei tu gemelli che ti preoccupi per qualcuno è come che ti stai rassegnando io ho provato di tutto non sono io la responsabile più a fare cambiare questa situazione perché non posso più di questo non posso fare perché tu mi dimostri che hai fatto di tutto non puoi più cambiare questa energia dammi il carro la ruota della fortuna ragazzo di bastoni lotto di bastoni e si stai cominciando accettare 8 di denari se vuoi continuare anche tu a sostenere questa situazione di persona però cominci a accettare cominci a accettare dici vabbè io più di questo non posso fare però accettare come sono le situazioni però io ho la sensazione gemelli che datti ancora un po' di tempo se ti posso un consiglio perché sempre che la situazione possono migliorare io credo che è una grande sì è stata lunga una fase lunga che è dovuto trasformare qualcuno o per togliere qualcuno dei casini no può essere anche però io credo con il tuo amore puoi risolvere tanto c'è tanto supporto con il tuo amore non te la segnare subito adesso in queste circostanze perché in questo momento credo che puoi cambiare puoi farla migliorare questa situazione dammi un consiglio 8 di spade 10 di bastoni questo lo riprendo e l'8 di denari sì è pesante è pesante è come che non trovi una via di uscita però non ti rassegni nel senso non è che dici no devo lasciarla stare no per niente anzi è la morte sotto il mazzo come che comunichi o fai capire a qualcuno che tu sei qua se hanno bisogno tu sei qua però non puoi più influenzare quello sì però io credo che veramente il tuo supporto che dà questa energia anche se in questo momento non lo vedi ma è molto grande il risultato lo vedrai molto probabilmente lo vedrai spero che lo stesso ti ho potuto aiutare gemelli un like per favore se ti è piaciuto noi ci vediamo domenica con la mia lettura domenicale un caro saluto alla tua Luana ciao ciao ciao